Domine Patris et Fibi et Spiritus Santi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria Sede Sapientiae ora Pronobis. Voglio offrirvi anche oggi la riflessione sul Vangelo di domenica prossima, il Vangelo della terza domenica di Quaresima. Il brano che ci viene offerto dalla liturgia è quello di San Luca al capitolo 11, dal versetto 14 al 28. È un lungo brano nel quale si parla del rapporto tra Gesù, Salvatore, Liberatore dell'uomo, e il potere di Satana nel mondo. Inizia con l'episodio di una liberazione, di un esorcismo compiuto da Gesù su uno sesso. Le parole del Vangelo sono queste. Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Quando il demonio fu uscito, il muto parlò, e le folle ne erano meravigliate. Ecco, usa il verbo all'imperfetto. Al passato imperfetto, questo significa che l'azione compiuta dal Signore stava scacciando, è un'azione che ha impiegato un certo tempo. Significa che l'esorcismo non è stato semplice, come altre volte. È stato un esorcismo un po' prolungato. Il demonio deve avere agitato questo ossesso finché a un certo punto Gesù lo ha liberato. E la meraviglia della gente dimostra che effettivamente la liberazione di quell'ossesso è stata un po' drammatica, come possiamo immaginare in certi casi. Quel demonio era muto. Questo ci fa pensare che, non sempre, ma alcune volte, certe malattie del corpo sono dovute proprio all'influenza dei demoni. Lo rendeva muto. Il mutismo. Il mutismo è qualche cosa che ci impedisce di parlare, di dialogare con gli altri. O anche con l'altro, con la A maiuscola, cioè con Dio. E corrisponde alla malattia che hanno gli uomini di oggi. Tante persone oggi sono paralizzate dal punto di vista del dialogo con Dio, quindi non riescono a pregare, hanno come un blocco interiore che impedisce loro di rivolgersi umilmente al Signore. E anche un blocco verso il prossimo, in quanto non riescono a interloquire con le altre persone, quindi a entrare in sintonia con gli altri e soprattutto ad amare gli altri. C'è un blocco che li rende assolutamente ripiegati su se stessi. Questo è il mutismo. Ecco, il demonio a volte colpisce i sensi esterni dell'uomo. Ecco, la capacità di dialogo. A volte in certi episodi del Vangelo il demonio è cieco e quindi rende cieco l'uomo e rappresenta la cecità che hanno le persone. Cecità verso la verità. E altre volte il demonio è sordo e quindi rappresenta la sordità dell'uomo di tutti i tempi e anche dell'uomo di oggi verso la parola di Dio. Quindi Gesù come può intervenire per liberare un uomo che è muto, sordo e cieco? Quindi come può la parola di Dio penetrare attraverso quelle orecchie chiuse i gesti liberatori del Signore penetrare attraverso quella vista o tenebrata in un cuore che è chiuso al dialogo con Dio e con il prossimo? Come può il Signore penetrare nella persona e liberarla? Effettivamente l'episodio di questo Vangelo ci fa capire che il Signore può oltrepassare i sensi esterni delle persone andare direttamente al cuore di quell'individuo e liberarlo. Questa liberazione può avvenire, Dio può tutto. Il demonio è costretto ad abbandonare il terreno, la preda. Quindi tutto il Vangelo ci parla della potenza di Gesù ma ci parla anche della cecità delle persone che non vogliono vedere che Gesù è così potente. In effetti gli scrivi e i farisei lo accusano di cacciare i demoni in nome di Belzebul. Pensate, che assurdità! E altri di loro nonostante avessero visto il miracolo compiuto cercavano ancora altri segni dal cielo. Quindi vedete che le persone non si rassegnano a riconoscere in nostro Signore Gesù Cristo la potenza, l'unica potenza che può veramente liberare l'uomo. Ecco, andiamo all'epistola che è molto interessante anche quella dove San Paolo dice quelle parole molto pesanti pesanti come pietre ma altrettanto vere nessun fornicatore o impuro o avaro che è quanto dire idolatria ha diritto di eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con vani ragionamenti proprio a cagione di questi vizi scende l'ira di Dio sui disobbedienti. Ecco, nessuno vi inganni con vani ragionamenti perché anche all'epoca di San Paolo c'erano quelli che dicevano ma sì, i peccati della carne e i peccati impuri poi non attecchiscono sull'anima non hanno conseguenze sull'anima sono azioni esterne all'uomo che male c'è è importante volersi bene dice nessuno vi inganni con vani ragionamenti nessun fornicatore o impuro o anche avaro quindi non solo andare dietro ai piaceri della carne ma anche alle ricchezze di questo mondo ha diritto di eredità nel regno di Cristo. Non abbiate dunque niente in comune con loro eravate tenebra ora siete luce nel Signore Carissimi fratelli è vero che il Signore può tutto contro Satana ma non può niente se noi non gli offriamo la nostra volontà e la nostra determinazione nel scegliere il bene e rifiutare il male in questo ci protegga la Beata Vergine Maria che ha sempre posto al primo posto della sua vita la parola liberatrice del Signore sia lodato Gesù Cristo in nome dei Patris e Fili e Spiritus Santi Amen Amen